E' un po' il mio team Succulenti qua vogliamo Subito cose buone Ma che mi sta a dire Ma che mi sta a dire Ma chi è entrato qualcun altro No Ma rica non dico niente Io non dico assolutamente niente Io ho puntato ai piani più alti Fine Non mi saremmo aspettato da arrivare fino a qua rica Io non Il punto No spara Venite giù Venite giù rica Si rimette a posto il Cangiali? Oh mio dio Grazie Cree Grazie Cree Ti ringrazio Rica PTR come stai? Guardi a questa squadra nostra Sal Non è Sal Smilmeri E chi sei sui? Chi altro ci abbiamo? Chi altro ci abbiamo? Reghiamo questo round E' meraviglioso Meravigliosamente Meraviglioso Reghiamo Ma di una meraviglia Comunque mi stanno a sparare Reghiamo che c'ho paura Aiaiaiaiaiaia Chi è che mi spara? Sembra qualcosa che aggancia Reghiamo Bri 0-9 Vieni qua Ok Prendime Sali 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 Veloce però Aspetta Aspetta Mi stanno a sparare Luca E non esplodi Wow 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 Regà La cena in altro Per cassa No no Non è per cassa Regà Mi stanno sparando Non so con che Un dare Sergio Ci sta Ok Dove sta? Ma chi dove Veni a prendere Regà Non lo so Ah E non ci arriva No regà Ehi 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 Sono troppo alti Sono troppo alti Regà Come facciamo? Ce n'è un altro Adesso è la squadra nostra Sì Aspettate Andate via Questa lì Grotino No Mi preoccupa Quando ci metti Tanto Ha narrato Grotino Regà 17 minuti Al termine Però regà Una cosa Non sopporto Di queste Mystery Box Così Che uno Prende il canciali Poi uno Si mette A camper Alla sopra E non si può Fare più niente Oh regà Siamo riusciti Ad accordare Un patto Perché qui Non se ne poteva più Io non posso stare A aspettare Dieci minuti Quindi O scendete O scendete E non mi mirare così Che sono quasi esploso Non mi mirate così Ok È quasi distrutto Quasi distrutto Come possiamo fare Ok Uno Uno solo Una alla volta Che meraviglia Round vincitore Prossimo round Ok Ok regà Secondo round Ci riuscirò Di nuovo A riprendere Quel canciali In cima Allora andiamo Perché noi siamo Le sentinelle Regà Non so Non ho idea Regà Ah Grande PTR Grandissimo Niente Stavolta Non c'è andata Di russo Come prima Che peccato Allora Belli concentrati Belli carichi Ok Hanno già preso Il canciali No Troppo Cioè Prima ho saltato In una maniera Regà Cioè Perfetta Proprio Perfetta 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 Non ho preso Qualcosa No Niente Ha preso Niente Ok Niente Ha preso Niente Non so Cosa c'è Ma c'è solo Quello Di veicolo Senti Ai 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 Sali qua Sopra E' buono Teoricamente Teoricamente Allora Ah L'errore Più grande Della mia vita Regà Che errore Da non fare Perché 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 Ok Ce li proviamo Ce li proviamo Ai Quasi 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 Ma in quest'altri Cosa c'è Che hanno preso Non lo so Ah L'hanno preso Il canciali L'hanno preso Da dove In cima In cima Che possiamo fare Cosa possiamo fare Nel bianco Am Am great Am great L'ha preso Eh si Se deve Vendicare Che non L'ho arato Io Tra l'altro Sbrigati Guardalo Guardalo come Se sta Diverti Con quel Canciali Regà Come si Diverti Oh no No Non mi prende Non mi prende Eh Complicato 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 Qua sopra Non ci voglio andare Dai qua 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 Almeno Qui C'era già un suino Ma non so Cosa ci sta Sta da questa parte Lui Non è stata quella Ok Non lo so Ma l'unica arma Di questa Mystery È il Canciali Regà No regà Sto giocando Male Oddio Ci va bene Ci va bene Anche forse Atterriamo nel viola Sì 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 Mi gusta Mi gusta Aspettate No regà Ma chi c'è sta Il ferro Perché Non Si rompe Cose Assurde Accadono Regà Sono fritto Soffritto Soffritto Lo sapevo Ok Terzo round Allora Sapete Perché È meglio Cinque minuti Perché anche se uno Rimane sotto Cinque minuti Uno può tentare Però non può mettere Il creatore 20 minuti Regà Se no Veramente Per registrare Una mystery box Ci vogliono Tre ore Zitto 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 Sui Ah regà Ma la fortuna Che ci abbiamo avuto Il primo round Cioè incredibile Incredibile Di quel creatore Che metteva Le cose Cioè quel creatore Che metteva Il nulla Delle cose Più alte Non mi ricordo Qual era Che pole Sei Cos'è che pole Profittiere Andiamo a prendere Quel cangiali Va Ma non si capisce Stare quattro voltic A volte Però c'è il c4 Pure quello Me gusta Me gusta Veramente tanto Regà Allora Chiudo No Non hanno preso niente E Troppo alti Peccato Però siamo qui Sui Possiamo Possiamo Tentare Ah regà Sbagliato 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 C'è 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 Lino Preso Dai Regà Non riesco A entrare Nessuna parte Più No c'è uno Cosa c'è io Sbagliato 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 Troppo 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 gente Allora Come ce la giochiamo Sotto c'è un cararmato Ma tu Questa Non me l'aspettavo Per niente Meno male che il cararmato Sto a dirlo Prima che me vede Che si ride Se Ok Corri 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 Mamma mia Liscio Sui Liscio Ah regà Allora Almeno là sopra Là sopra Là sopra Là sopra Qui 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 Allora Eh stavo a provare MB Sfortunata Alex Dei proprio Non me lo Sto di Per niente Killare Mi fermo troppo E mi era Ehi Che cicchinata Sevent Ok Nuova mystery box Mystery box troll Creata da Seat JC Pensai che la sua Prima mystery box Crea la miseria Che aspetta Ehi Ma c'è mystery box Ovunque Regà Poi che vuol dire Troll Regà Ma io Sto a combinar Sui nomi Dall'altra parte Più illuminato La miniatura No I oggetti Renaward Super mega Baccati Regà Però mi sa che Serve poca velocità Non c'è niente Ah no Vabbè Lì era Immaginavo che Non c'era Nulla Però veramente Avevo puntato Nel Nel tubo Regà Che buono Che possiamo fare Più di una cosetta Là Sì Dai Per favore Ah no C'è un qualcosa Un qualcosina Di interessante Ce l'abbiamo Però Cioè Come miro Da qua Spiegatemelo Cioè Io al massimo Posso fare Posso fare Posso fare così Magari Mi da Ho erato qualcuno Ma devi al colpo Ah no Ma non va lì il colpo Regà Guardati Se io miro lì Dove va finì Sto colpo Vediamo per di qua Se io tipo Se io miro Se io miro Vabbè Questa è una cosa Regolare Di GTA Però ha deviato Vi garantisco Che ha deviato Che può esplodere Lì Osserviamo Ci rimane solamente Da osservare Così controlliamo Se c'è qualcosa Di carino Ma Non vedo Ah Ma era strano Però che sia Sì Mannaggia Grudino Che stai pure In una squadra mia Potevamo vincere Ok Secondo round Allora Andiamo a vedere Quel cangiali Va Immaginate Chiuso Perché se si chiama Mystery Box Troll Mette il cangiali In bella vista Regà Non vi sembra Leggermente strana Sta cosa Un po' troppo strana Allora Ok Ah Regà Non ci voglio Credi Mi stanno pure a cecchina Vi prego Non mi cecchina Grazie Grazie Su Spostami No Regà Mi stanno a cecchina Che scordatela Andiamo 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 Che tutto va Il turbo Che vuol dire Che è chiusa No regà Non è possibile Che è così Complicato Veramente Io pensavo Era strafacile Entra lì Proprio sfortuna Una sfortuna Immensa Ah ma è chiuso Chiuso Regà E invece C'è il pezzo invisibile C'è il pezzo invisibile Regà Sicuro E io sto insistendo Su una cosa Che non è possibile Lì Che c'era No No regà Regà Mi sa che c'è il pezzo invisibile No Era entrata Eh Ci riproviamo No regà Secondo me Secondo me c'è il pezzo invisibile Voglio vedere Solo da qui Sì Avete visto il cerchietto Regà Ma guardate Ecco perché Nessuno No 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 Fugato una ruota Regà Questa è tremenda Di mystery box No Le baretto Non c4 Per favore Quanto c'avevo sperato Che entrava là dentro Regà Troppo No 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 La squadra mia Non hanno preso niente Vero Quasi 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 Regà Ha preso Come ha fatto a prendere i cangiali Regà Come ha fatto a prendere i cangiali Quello da squadra mia Rodino Come ha fatto a entrare là dentro Ma Che c'era là dentro C4 No Poteva rimanere qui Ma non può scendere C'è Sì Di entrare Ma non può scendere Regà Da quello che ho capito Lo vedo ancora là dentro Io Ah Regà Non No 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 Non ci voglio Credere Non ci voglio Credere Credi Non puoi uscire Dalla Vero No Mamma Mamma mia Che misteri Regà Si capisce Niente Ma non è facile andare Da nessuna parte Regà Oh Là Là C'è un cangiali Vero No C'è il cangiali Vero Lì C'è il cangiali Vero C'è il cangiali Vero Regà Come facciamo Ma è sempre Complicato Entrare lì Poi con una ruota Bucata Eh niente Stanno continuando A sparare Gà Troppo Troppo Complicata Ci dobbiamo riprovare Qualche altro video C'è il c4 C'è il c4 No non c'è il c4 No regà Sono muerto Magari Andavo lì Magari Sta ancora Stanno ancora all'agrodino Regà Regà Sono ancora No C'è il c4 Sono morto Ah Regà è variato Per il c4 Ok regà Ci giochiamo L'ultimo round Chi vince questo Vince tutto Io Non si vede niente Non ci voglio Credi Cosa ho combinato Regà Che siamo in santa pace Ovviamente si bugga Lo stesso No No Regà Ditemi adesso Che non è la sfortuna Più sfortuna Della storia Io non Dico niente Non credo Che sia troll Pure quello No regà Dai per favore No Se no veramente Qui ci vuole Veramente 47 round Per capire Come funziona Questa mystery E troll E troll E troll E troll Cioè vi rendete conto Che non va bene No Io quello pure Lo vorrei E quello regà È ottimo Però Appena bucano le ruote Per me è finita Completamente finita Regà Troppo Trolla La fonda Regà Perché là adesso Si vede qualcosa No Jerry 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 Perché si vede qualcosa Regà È sempre stata aperta Quella parte Oh Sembrava Strano No Tutta sta X Solo per questa cosa Regà E mo non posso Nemmeno uscire No Bello Finisce così La mystery box troll Se vi è piaciuta La doppia mystery box Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello E noi ci becchiamo No 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 Grazie per la visione!